Parliamo con il terapista della riabilitazione di Vatotochao. I terapisti sono tre, qui ci sono tre terapisti della riabilitazione. Adesso chiediamo il suo nome, quale scuola ha frequentato e un po' la situazione che ha trovato qui in Vatotochao, dove ha lavorato, eccetera. Qual è il tuo nome? I'm Paul, Paul Kimani. I'm Paul. And how many hours do you work here? Ok, we have, in the main office we have the program learning on Tuesdays, from 8 to 5, and on Saturdays from 8 in the morning up to 5 pm in the evening. Quindi dalle 8 del mattino fino alle 5 di pomeriggio. Quindi altri giorni si spostano, vanno a casa, to home, to the parents. Sì, and the other clinic that we visit is in Nairobi Children's, Rescue Center. And we also do home visits. Ah, quindi si sposta, insomma, viaggia, utro all. Sì, we do follow-up for children whom we feel that they really need extra sessions. So we do home visits for those children. We train the family. And they also we train the community. Cercano di convincere le famiglie, di persuaderle, insomma, ecco, di portare i bambini qui a Vatotochao. Sì, those are some of the things that we do outside the working station. So we extend our services to the community. Quindi il loro lavoro è anche nelle comunità. E loro intervengono proprio, diciamo, a casa. Ecco, quindi vanno a casa e effettuano interventi di riabilitazione sui bambini. Volevo sapere qual è il tipo di scuola, which school type have you made? Ok, for me we got our training, the basic training in operational therapy at Kenyan Medical Training College. Kenyan Medical Training. Sì, it's a after diploma course. After diploma. Yeah, three years course. Quindi sarebbe una laurea, come dire, un master? Master, no, not yet. It's a basic diploma. Ah, è proprio un diploma, ok. E quanto tempo? Tre anni, three years? Yeah, three years. Ecco, della durata di tre anni. Quindi è un'accademia, accademia. Yeah, three years. È un'accademia che dura tre anni proprio per la riabilitazione, che si trova a Nairobi. Yeah, it's Nairobi. Si trova a Nairobi, benissimo. E che lui ha frequentato naturalmente per diventare terapista della riabilitazione. Benissimo. The children came, a Totochao. Quali malattie, diciamo, which diseases? Yes. Ok. Talk, talk. Yeah, we have different types of conditions or conditions that we see in our Atotochao centers and mostly the most, the most cases that we deal with is cerebral palsy, we have children with physical deformities. Yes, yes, and also we have children with learning disorders, and with that I mean children with intellectual disability, and also… Anche quindi disabilità mentale, diciamo, anche su quello intervengono. Certo. And we also, we have seen other children with autism, and the other cases of children that we deal with is children with neurological conditions. Certo. Yes. Like spina bifida, we have spina bifida, we have also children with medical conditions who need surgical interventions. Si. Che ha bisogno di interventi medici, insomma. That's the spina bifida, we have hydrocephalus. Hidrocephalus. Yes, we have children with orthopedic issues, like crab foot. And those… Hidrocephalus. Quindi difficoltà nel camminare, nel muoversi. Yes. Those are mostly the categories of children that we receive in our clinic. So we do the assessments, we plan the treatment plan together with the parents. And then after that, we facilitate the treatment process. And then now, if we need any referrals, we do the referrals to our partners, who are the medical institutions. Ok. Oh. Adesso volevo chiedere, ancora, ma, queste persone dove vivono? Where do they live? Dove vivono? Near? Most of… All of our children live with their immediate families, at home. So, I expect one or two children who are undergoing medication, surgical repair at North Kinamco Hospital, who is residing in an institution, just for the time he is undergoing the surgical hospital. Because… Va tutto ciao. Hasn't… Transport, vero? Non ha transport. Eh, purtroppo. E quindi vanno loro a casa. Ecco, per chi può venire, cioè, chi può, come, allora viene, come, altrimenti vanno loro presso le varie case, insomma, le case delle famiglie. E va bene, allora, Paul, grazie per questa intervista. Thank you, Paul. Ok, thank you very much. Maggio!